Il gruppo ed il nord sta realizzando alle porte di Milano una città pensata proprio per i tuoi figli. Milano 3, una città finalmente amica dei bambini con grandi spazi per giocare con bellissime attrezzature sportive con le scuole proprio sotto casa. Milano 3, una città sicura con percorsi riservati ai pedoni e alle biciclette. Milano 3, per far crescere i tuoi figli più sani, più liberi, più sicuri. Milano 3 ti aspetta per scegliere la casa che hai sempre sognato per te e per i tuoi figli.